La famiglia ti manca, però ormai è diventata un'abitudine la vita di camionista. E l'amicizia si fa nei parcheggi. La mia famiglia vive in Alta Irpinia. A mille chilometri da te. Noi siamo tutte le settimane fuori, si ritorna il venerdì, si ritorna questa. La coda del cotarde è un problema, non lo so perché, ma è un problema. Nel senso che ti tocca stare tanto in coda? Un'ora, un'ora e mezza, due ore. Vor allem per la feriena, da c'è molta via il volto, in fronte o in fronte o in fronte. È sempre un problema. La Svizzera facciamo quasi due volte a settimana con tutti questi campioni. Si... Viaggi male. Stai in secoda, poi non ti bastano i tempi di guida. Ci trovato il traffico anche lì a Esfeld. Ci hanno tenuto lì fermi. Un po'. Diverse ore? Un'oretta. Quattro notte a settimana sicuro. Dormi nel camion, sì. E quante ore dormi a notte? Vabbè, la sera quando ho finito le ore di guida, fermo, mangio al ristorante dove capita. Mediamente sette, otto ore. Che tratta stai facendo? Adesso a Pesero, tutta la Svizzera. Tutto. Si entra da una parte e si esce dall'altra. Si entra dal Gottardo e si esce dal Sembione. O si entra a San Bernardino e si esce dal Gottardo. Dipende dal giro completo. Stai facendo il stress, non puoi fare. Un po' di fortuna lo abbiamo anche noi. Io sono rumeno, per esempio, ho delle cose della chiesa ortodossa. Tutti i portafortuni delle mie figlie. Il divano sì che manca, sì. Quello è comodo.